Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema riguardo alla condivisione dello schermo nero su Discord quindi in questo caso faremo moltissimi metodi in questo tutorial, quindi per iniziare andiamo un attimo nelle impostazioni di Discord come primo metodo quindi vai direttamente su impostazioni utente, scendi fino a giù fino a trovare voce e video, scendiamo fino a giù fino a trovare così l'openh264 codec video, inseriamo così, quindi attiviamo questa codec video, scendiamo fino a giù fino a trovare così la nostra DLL viene inserita nell'applicazione per catturare i fotogrammi, quindi più avanzata per condividere lo schermo quindi dal disattivato metti attivato, se non dovesse funzionare chiudi un attimo Discord quindi chiudiamo un attimo Discord e passiamo direttamente al secondo metodo quindi andiamo direttamente su esegui, vai su esegui, scrivi qua %updata%, fai ok entra così nella sua cartella, vai su updata, vai su local, scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Discord ed eccola qua in questo caso se io adesso vado a cancellare la cartella di Discord, poi una volta fatto Discord non si aprirà perché l'abbiamo cancellato quindi quello che dobbiamo fare è reinstallare il nostro Discord e poi rifare l'accesso con il nostro account solo questo dobbiamo fare, quindi va cancellata la cartella eccola qua, cancello così la cartella svuoto il cestino quindi in questo caso l'abbiamo cancellata quindi dobbiamo solamente reinstallare il nostro Discord quindi vado a scrivere Discord download faccio download per Windows scarico così Discord eccolo qua, Discord setup installo così il mio Discord vi faccio l'accesso ed eccolo qua come nuovo se non dovesse funzionare quest'altro metodo andiamo direttamente, quindi passiamo al terzo metodo quello di scaricare e aggiornare i driver per la nostra scheda video quindi se non ti fa condividere lo schermo può essere anche per i driver per la scheda video che non funzionano quindi per quelli che hanno una scheda grafica Nvidia andiamo a scaricare così driver per Nvidia quindi vai a scegliere direttamente il tuo prodotto tipo di prodotto il mio GeForce metto 1660 Super 16 serie Super questa qua 1660 Super Windows 11 faccio la ricerca e scarico così il mio driver per quelli invece che hanno AMD stessa cosa con Nvidia quindi vai a cercare così la tua grafica il tuo processore lo trovi e lo scarichi stessa cosa che con Intel invece download now e lo scarichi una volta scaricati così i driver per Nvidia, AMD e Intel per quelli che hanno questi componenti qua andiamo così a scaricare gli altri driver quelli di Microsoft Visual C++, Visual Studio 2015 fino al 2022, RM64 fino a x64 scarichiamo questo, scarichiamo questo e scarichiamo quest'altro una volta fatto andiamo a scaricare pure il web install e DirectX una volta scaricati tutti questi driver dobbiamo avviare prima i 3 driver quelli da RM64 fino a x64 questo qua esegui come amministratore accetto installo e voilà tutte e 3 in elaborazione e in installazione non sopporta il tipo di processore quindi questo non funziona installazione riuscita installazione riuscita e ora passiamo ad ElectX metto il contratto tolgo la spunta da qua faccio avanti faccio fine basta una volta fatto quello che ti resta da fare è riavviare il sistema e hai fatto se non dovesse funzionare puoi sempre scrivere sotto al video cerco di realizzare un'altra guida a riguardo quindi grazie a tutti per questa visione grazie per il vostro tempo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao